Tu, no, 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 io parlo apertamente, ho 50 punti, mi vengo da lavoro, tu hai capito poco di Roma, perché tu potevi essere imperatore, tu potevi... Avete capito bene voi? No, eh, abbiamo sbagliato noi, eh, abbiamo sbagliato noi, abbiamo sbagliato. Che noi ti dà per cuore, ti dà per cuore. Abbiamo sbagliato noi, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato noi, abbiamo sbagliato. 200 euro l'ho fatto, ragazzo. Che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? Che vuole fare apposta, dove vuole fare al sud? Dammi la mano, Pablo!